Papà, ma non fanno le prove? No, oramai hanno finito, per questo ci hanno lasciato entrare. Oh! Che bello, eh, papà? A me piacerebbe lavorare in un circo. Gli acrobati, i leoni, i cavalli. Già, tu potresti fare il pagliaccio, ma quello lo fai anche a casa. Dì, papà, a te piacerebbe? Vivere in un circo? Beh, sì, certo. Si gira il mondo, ci si sente liberi. Eh, ma occorre avere molta passione, perché bisogna fare tanti sacrifici. E fra te e tuo fratello? Ah, dov'è Gianni? Gianni! Sono qui! Ma che fai? Vieni giù subito. Perché? Non c'è mica pericolo. Hop! Dai, vieni anche tu. Gianni, vieni, vieni giù. FIFA, eh? Papà. Vengo anch'io. No, tu è meglio vincere. No, tu è meglio. Se anche vostro marito e i vostri figli sono così, si amano soprattutto vivere in libertà, scegliete per loroissimo antimacchia. Issimo! Per vivere in libertà. Un abitoissimo è sempre elegante, disinvolto, simpatico. Simpaticissimo! Simpaticissimo! Libertà nel vestire, eleganza vera con un abitoissimo. Per l'uomo, giovane, bambino, confezioni,issimo. Per vivere in libertà!